ZES Ionica, interviene il consigliere regionale di sinistra italiana, liberi e uguali, Mino Borracino. Con la trasmissione alla presidenza del Consiglio dei Ministri del piano strategico relativo alla zona economica speciale interregionale Ionica, avvenuta nei giorni scorsi, si segna un deciso passo in avanti per l'istituzione della ZES, che graviterà attorno al porto di Taranto, interessando un'ampia aria della provincia fino ad arrivare a coinvolgere anche la Basilicata. Come già evidenziato nelle scorse settimane, ritengo che questa sia una grande opportunità per tutto il territorio tarantino, a maggior ragione se dovesse essere accolta la richiesta opportunamente avanzata in modo congiunto dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata di esentare dal pagamento delle imposte per la durata di 10 anni tutti i nuovi investimenti che insisteranno sull'area interessata dalla ZES. Con l'approvazione e la trasmissione del piano strategico a Roma, si può dire che la Regione Puglia ha fatto fino in fondo la sua parte e ora aspetta al Governo centrale fornire una risposta e soprattutto concludere celermente il lungo e complesso iter procedurale per arrivare alla definitiva istituzione della ZES Ionica, obiettivo che oggi sembra finalmente a portata di mano. Grazie a questo strumento e ai benefici in termini fiscali e di semplificazione amministrativa che ne seguiranno per agevolare gli investimenti, sarà possibile dare un significativo impulso alla crescita economica e occupazionale di tutto il territorio, fornendo una risposta lungamente attesa da cittadini in cerca di lavoro e imprenditori. E conclude così Borracino, la ZES può rappresentare davvero un fondamentale volano per lo sviluppo di Taranto e di tutta l'area Ionica e per questo vigileremo e proseguiremo nella nostra attività di impulso affinché questa grande occasione non vada sprecata.